Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio farvi la mia pamper routine, quella sorta di spa a casa, per quelle volte dove sono un po' di fretta quindi non posso permettermi di stare lì le ore, massaggiare, fare cose, cambiare mille prodotti. Quindi molto semplicemente andremo ad utilizzare pochissime cose, ma che hanno un'efficacia pari se non più alta del classico metodo a più step. Infatti il prodotto che andremo ad utilizzare oggi è una super novità, una super scoperta tecnologica per la skin care. Infatti non a caso è un dispositivo ispirato ai trattamenti coreani, che se seguite un po' il mondo beauty sapete un attimo che i prodotti coreani per la cura del viso, la cura della pelle in generale sono tra i migliori. E il dispositivo che andremo a utilizzare è di questo marchio qui, Foreo, che molto probabilmente avrete già sentito. E noi oggi, in maniera speciale, andiamo a vedere nel dettaglio il Foreo UFO Mini. Per rosa voglio un mi piace solo per questo. Appunto come vi dicevo questo è un dispositivo unico, è uscito da poco in commercio, può sembrare piccolo ma è super potente, super efficace. Infatti il trattamento che andremo a fare durerà soltanto 90 secondi, ma basteranno come se fosse una maschera normale. E in più diventa anche un vero e proprio sfizio da potersi permettere, perché dopo vi farò vedere tutte le funzioni tra cui abbiamo luce, calore, pulsazioni, che vanno a stimolare tutte le cellule della nostra pelle. In più come vedete il design è molto comodo, pratico per viaggiare, perché comunque è piccolino. Questo dispositivo combina la termoterapia e le pulsazioni T-Sonic. Dovete provarlo questo perché non posso spiegarvelo. È una sensazione pazzesca, vi rilassa come se non ci fossero domani. E abbinato a questo dispositivo ci sono due diversi tipi di maschera. La Make My Day è per il trattamento giorno e la Call It Night per il trattamento notte. Logicamente ognuno ha una sua funzione, ognuna lascia una sensazione diversa e ha anche ingredienti diversi. Logicamente quella da notte è più ricca, perché durante la notte vi andrà a nutrire la pelle, mentre quella giorno ha un'azione un pochino più assorbibile. Questa giorno è formata da acido ialuronico e alghe rosse, quindi super antiossidante, antiimpurità. Infatti offre una super idratazione e vi permette di proteggervi dai fattori inquinanti quando siete in giro ed è per questo che dovete farla durante la giornata. La maschera notte invece è formata da ginseng e olio di oliva. Infatti come vi dicevo prima, nutre e rivitalizza la pelle durante la notte, quindi più la tenete e più fa effetto. E la cosa bellissima di questo dispositivo è che addirittura è collegato ad un'applicazione, che è appunto l'applicazione ufficiale di Foreo. Tramite questa voi andate a scansionare il codice a barre della vostra maschera, quindi vi riconosce quale tipo di trattamento state effettuando e prima della registrazione vi farà scegliere che tipo di pelle avete, quindi in base a quello poi andrà a settare il vostro dispositivo. Questa è una cosa geniale. Come potete vedere io mi sono già registrata, ho già collegato tutte le mie impostazioni, ho già impostato il mio dispositivo, quindi quello che farò ogni volta che devo iniziare un trattamento è andare qui nella sezione connetti e selezionare la mia maschera. Oggi con voi io vado a provare quella da giorno. All'interno di ogni confezione ci sono sette trattamenti, quindi ne andiamo a prendere una bustina, clicchiamo appunto su connetti e ci dice di accendere il nostro dispositivo, quindi clicco sul tasto sopra per 3 secondi, dopodiché si andrà ad accendere, come avete visto, e si andrà anche a collegare sull'applicazione. Quello che dovremo scegliere è se abbiamo optato per il trattamento giorno o quello notte, noi abbiamo quello da giorno, quindi clicchiamo inizia e ci farà scansionare il codice. Quindi giriamo la confezione, inquadriamo il nostro codice, una volta fatto questo abbiamo trattamento pronto per iniziare. Quindi non ci resta che applicare la maschera sul dispositivo. Quindi apro la mia confezione, all'interno abbiamo il nostro dischetto imbevuto di prodotto e della forma giusta per essere applicato sul dispositivo, quindi è anche molto molto comodo. Infatti quello che dovremo fare è togliere l'anello trasparente che vedete e applicare la maschera sul dispositivo. In questo modo poi riprendiamo l'anello trasparente e andiamo a bloccare la nostra maschera. Fatto questo io mi preparo al trattamento, mi metto la mia solita fascettina, tolgo gli occhiali, vado a premere inizio trattamento. Come vedete seleziona il tipo di luce più adatto al mio tipo di pelle, perché ce ne sono diverse. Aspettiamo il countdown dell'applicazione e avviciniamo il dispositivo, che come vedete ha scelto la luce rossa, quindi con movimenti circolari inizio ad applicarlo. Piano piano sentirete che si scalderà e inizierà a pulsare, quindi andrà a stimolare tutte le cellule, i vasi sanguigni. Piano piano ci spostiamo su tutto il resto del viso, potete vedere che la lucetta non cambia e sta iniziando a pulsare, sentite, e ad emanare calore, che non potete neanche immaginare quanto sia piacevole. Quindi ripeto, un trattamento che voi fareste in 20 minuti, con questo lo fate in 90 secondi. I 30 secondi iniziali sono di preparazione, gli altri 30 sono di applicazione del prodotto, e poi gli ultimi 30, come vedete, cambia luce e diventa più specifico, in base alla tipologia di pelle che avete al momento. Logicamente, essendo così piccolino, riesce a entrare bene in tutti gli angoli del viso. Sempre con movimenti circolari, andiamo ad applicare il prodotto finché non si spegne il dispositivo. Mi raccomando, tenete sempre d'occhio anche l'applicazione, così non vi sfugge nulla. Trattamento finito, adesso vi faccio vedere come estrarre e pulire il dispositivo, che è super super semplice. Prima però, non sprechiamo il prodotto che c'è rimasto sul viso, e lo andiamo a massaggiare così con le dita, per far assorbire bene il prodotto. Tra l'altro le lucette che vi dicevo prima, che come avete visto cambiano colore in base al tipo di pelle, sono tre, sono quella rossa che è anti-aging, quindi va a stimolare l'elasticità della pelle. Poi abbiamo la luce verde che avete visto dopo, che ha un effetto luminosità, e quella blu che non avete visto, è perché è la luce per l'acne e tutte queste problematiche. Una volta fatto penetrare bene il prodotto, andiamo a togliere la fascetta, rimettiamo gli occhiali, e andiamo al lavaggio, così vi faccio vedere come fare. Quello che dovete fare infatti è facilissimo, vi basterà spegnere il dispositivo ripremendo sul tastino, finché non si spengono le luci. Togliamo l'anello trasparente, togliamo il pad che abbiamo utilizzato con la maschera, apriamo l'acqua fredda, e ci passiamo sotto il nostro dispositivo. Questo è tutto completamente impermeabilizzato, quindi non vi preoccupate, potete passarlo tranquillamente sotto l'acqua, e lo puliamo bene sulla piastrina, bene negli angoli. Come vedete sono in silicone, quindi si puliscono bene. Dopodiché pulisco anche l'anello, e tampono tutto con l'asciugamano. Super semplice, velocissimo, sia da utilizzare che poi da risciacquare, perché avete fatto. Basterà quindi poi ricomporlo. La cosa bellissima è che potete trovare sia il dispositivo, sia le maschere fatte apposta a dischetto, in tutti gli store Sephora. È un dispositivo super semplice da utilizzare. Adesso che iniziamo a partire, vacanza qua, vacanza di là, ce lo possiamo sempre portare appresso, e avere così, sempre una pelle pulita, idratata, perché anche se c'è il sole, c'è l'estate, eccetera, è importante tenere la pelle sempre nutrita, e soprattutto trattamento veloce da fare, prima di andare al mare, prima di uscire la sera, e vi lascio una pelle che non potete neanche immaginare quanto è morbida. Io non l'avevo mai provato, ma sinceramente sono rimasta super soddisfatta. Infatti vi lascio tutte le informazioni in più, ed il link del dispositivo, direttamente qua sotto nell'info box, quindi se avete curiosità, trovate tutto qua sotto. Detto questo io vi mando ancora un grosso bacione, e ci vediamo al prossimo video, vi aspetto, ciao! Grazie a tutti!